Siamo con la direttore generale calce della Turris, commento su questa amichevole? Su questa amichevole, che cosa è uscito fuori da questa amichevole? Una buona prestazione, abbiamo trovato una squadra in palla, hanno tenuto il campo per molti minuti nonostante abbiano avuto una preparazione iniziata in ritardo, il gruppo risponde già a quelle che sono le linee dettate dall'allenatore, una buona impressione, questo è. La squadra giovane, la giusta miscela, naturalmente sono giorni importanti per l'amalgama e per la coesione della squadra, però a tuo giudizio vivi 24 ore l'umore dei calciatori, lo sondila, la loro psicologia. Che Turris sta nascendo a tuo avviso? È un turris che come vedi nasce su un'impostazione di una squadra dove si sta cercando di attingere da giovani di prospettive, che possono far bene un campionato difficile come quello di Serie D, amalgamata da gente esperta. Questa sarà la Turris di quest'anno, un giusto connubio tra giocatori esperti e giovani di valore. Dottore, nel commentare col Presidente alla scelta del Gironetto è una sfida da vincere perché amo le sfide. È negabile che le pugliesi sono le avversarie, al momento sulla carta, davvero ben attrezzate per il salto di categoria. Quale sarà il tuo avviso del ruolo della Turris? Guarda, il girone pugliese, come dicevi tu, è quello pugliese-campano, con le squadre pugliesi che sono quelli che sono partite prima, sono state allestite alla meglio. La Turris farà il suo campionato. Noi centreremo con quello che sarà il nostro obiettivo, che è la salvezza quanto prima. Salvezza quanto prima i giovani, come procede all'inserimento dei giovani in casa Turris? Guarda, la soddisfazione è anche quella di aver pescato dal settore giovanile della Turris tre o quattro elementi che in questa partita sono stati utilizzati fin dal primo minuto. Il settore giovanile è stato un punto di partenza, sempre detto che l'anno scorso è stata una delle poche note liete. La Turris è arrivata in ogni categoria del settore giovanile alle finali o addirittura ai play-off. Qualche campionato credo che sia stata anche centrata direttamente. Questi saranno poi gli elementi su cui si guarderanno in futuro. Una società senza sottore giovanile è destinata a sparire. La Turris crede che da qualche anno abbia messo le basi affinché ciò non si possa verificare. È stata importante in casa Turris, conosciamo le vicende, sulla tua figura, direttore originale, una figura carica di responsabilità. Avverti il peso di un ruolo che è in aumento costante naturalmente, un ruolo importante, si può far bene, direttore a patto che? Guarda, io ho appreso con soddisfazione questa riconferma, tra virgolette, il mio quarto anno qui a Torre del Greco. Per ciò che concerne il ruolo di peso è un ruolo di responsabilità. Però con questo gruppo, con questa società, tutto diventa meno pesante. Da uomo di sport, quarto anno, mi conosce benissimo la categoria, un imbocco al vottore squadre campane del Gione, davvero ci possiamo divertire, saranno tanti derby, distanze ravvicinate, ci sarà divertirsi in questo campionato. Crepi e grazie. E poi un imbocco a Lubax, anche a Sport Event, che rappresenta un po' il nostro partner, nonché portafortuna. Per la gioia dei tifosi di Sport Event, dei tifosi della Tourist, possiamo, direttore, annunciare, continuare a questo matrimonio, ormai non c'è Tourist senza Sport Event. Un po' come tu hai detto nella intervista precedente, è la nostra portafortuna, c'è un legame di affetto, di amicizia e di rispetto, possiamo annunciarlo stasera. Tourist e Sport Event viaggeranno ancora insieme, va bene? E state sintonizzati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS